Parc Goscabia, Barcellona. Sono riuscito a evitare di farmi prendere dalla polizia. Questo è l'espazio sociale, vedi? Espai Sociale, Fondazione Catalunia La Pedrera. Praticamente quello che dalle nostre parti non si potrebbe insuffare. Camminiamo per grazia, in cerca di... eh no, io devo farmi riparare le scarpe, cazzo, è chiuso. Ah, vabbè. Come si suol dire. La gente mi guarda perché parlo da solo e quindi pensa che sia un matto, ma effettivamente. Ecco, nel caso uno si volesse sposare, potrebbe prendere questo meraviglioso vestito da sposa. Qui c'è un forno con tutte le cose molto buone. Mangano alle quattro del pomeriggio. Ci stiamo dirigendo verso Piazza Villa dei Grassi, che è una delle città. Ecco la signorina, vedi? Sta andando con il mono... Sembra uno del circo. Sono state le giornate dell'orguglio, dell'orguglio, dell'orguglio gay. E qui siamo a Piazza, Villa dei Grassi. Qui ci sono lo Scassonettos, come a Roma. E qui c'è un grande campanile. Uh, sembra la Torre di Pisa, che pende, che pende. Questa è la bandiera dell'orguglio, e poi c'è la libertà per i prigionieri politici. La bandiera della Catalogna è il fiocco giallo, il famoso Glioc. Qui c'è il fratello di Messi. Ha perso la palla. Vabbè, adesso ci sediamo, eh. E' un po' di merda. Pag, Plaza Villa de Gracia. Pavo Craxi. 8 luglio. Barcellona. Catalogna. Europa. Grazie a tutti